buon buon meriggio a tutti ragazzi in questo nuovo video e ci vedremo di nuovo il secondo episodio di sonic o voglio dire in inglese sonic con la a il secondo episodio spero di non essere scarso ai boss ovviamente perché ragazzi non ero preparato per altri video non avevo in mente quindi continuiamo l'episodio di sonic buona visione ecco fatto ragazzi è staccato internet così non ci crea problemi troppo forte meglio abbassare non sentite wow in città qua mi trovo ragazzi nel film ovviamente che stanno facendo me lo sponsorizzo il film ma saprete il motivo verso febbraio cioè domani o dopodomani perché ho deciso di scaricarmi questo gioco no che imbecile sonic in dita bello mi piace Mieee, l'ho distrutto, wow Sonic! Forza Sonic, corri in città! Pega, man! Non! Niente ragazzi! Ho salvato un animale! Qu'è raga? Qu'è raga? Qua proprio al cinema! Del film a quando dormi! Qu'è raga? Qu'è raga? Qu'è raga? Qu'è raga? Qu'è raga? Qu'è raga? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow, ragazzi. Grazie a tutti. 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 No... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forza... Forza... No, no... 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 E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti raga